Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni giornaliere di una vita. Oggi vi racconteremo la trama della puntata 426, trasmessa su canale 5 il 15 e 16 marzo 2018. Che cosa accadrà? Un forte rumore che proviene dalla cucina spaventa moltissimo Susana, che si fa accompagnare a casa sua e da Liberto. I due si trovavano a casa di Arturo per una bella serata. Rosina invece decide di restare per bere qualcosa assieme al coronnello. Cayetana si trova ancora in ospedale, ma è in via di ripresa. Fabiana però ha paura che i problemi con la giustizia possano di nuovo arrivare, non appena la Dark Lady sia guarita. Fernando verrà avvisato da Ursula che Teresa non ha un reale interesse nei suoi confronti, ma sta con lui solo per arrivare al suo scopo, che ben conosciamo. Alla deliciosa l'iniziativa della festa del cioccolato riscuote moltissimi consensi. Vedremo inoltre che Servante ha compiuto un ottimo lavoro con il coro dei bambini. Celia viene avvisata da Susana che Felipe è stato visto con Wirtas. La donna quindi si prende di coraggio e mette il marito alle strette, l'uomo deve decidere. Mauro fa un bel regalo a Teresa, le proietta delle foto di una fiera. La maestra infatti sogna di andare a questa fiera sin da piccola. Ma ecco il colpo di scena, Sara conosce il segreto di Mauro, ed è pronta a svelarlo a Fernando. Se una vita ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi sulla campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni.